Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Friulandia, lo sport tra gli amatori. Quest'oggi parleremo solo di calcio amatoriale e come ospiti nella prima tranche di trasmissione abbiamo il Real Cervignano. In rappresentanza di questa squadra abbiamo Diego Zalai che è il capitano di questa formazione della bassa e Ondino Parmigiani che ne è il presidente. Buonasera a voi. Ondino, il Cervignano ha molte realtà amatoriali. Ci sono difficoltà per una squadra come la vostra a reclutare nuovi giocatori? Sicuramente ci sono molte difficoltà e credo sia un problema comune anche di tutte le altre realtà della nostra città. Perché se pensiamo che ci sono sette squadre amatoriali che fanno regolare i campionati, si capirà come sia un ricambio generazionale che nelle nostre realtà ogni tot anni ovviamente ci deve essere. Devo dire però che la nostra squadra comunque ha sempre avuto una grossa percentuale di giocatori da fuori Cervignano. Infatti noi spaziamo un po' sul Monfalconese, sul Goriziano, arriviamo con dei giocatori anche qua vicino a Udine tramite conoscenze che portano altre conoscenze. Sì, quindi avete allargato un po' il bacino. Quindi devo dire che i giocatori cervignanesi, la nostra squadra, sono una minoranza per quello. E comunque siete una delle squadre più vecchie della zona, no? Sì, esatto, perché se si considera che noi abbiamo cominciato proprio a livello amatoriale, amatoriale, quando non c'era ancora questo sviluppo, non è ragione? Abbiamo cominciato nei primi anni Ottanta facendo dei campionati che più che campionati erano delle amichevoli organizzate. Siamo andati avanti in diversi anni così, poi la squadra per varie vicissitudini, che non starò qui a dire, si è sciolta ed è stata rifondata nel 92. Quest'anno tra l'altro facciamo anche il ventennale. Vi festeggiate alla grande, insomma, questo anno. Festeggiamo fino a un certo punto, se vuoi magari ti spiego anche perché. Trasformiamo questo ventennale in un memorial per un nostro giocatore, uno dei primi, uno di quelli proprio dei primi anni Ottanta, che l'anno scorso è venuto a mancare prematuramente, molto prematuramente. E quindi faremo una giornata dove cercheremo, verso fine giugno, dove cercheremo di coinvolgere tutti i centinaia di giocatori che sono passati in questi trent'anni per il Real, fare una giornata commemorativa. Ovviamente di fronte a queste cose il ventennale passa in secondo piano, molto in secondo piano. Comunque abbineremo questo e quello verso la fine di giugno. Diego, quest'anno siete partiti male, poi avete piano piano ingranato la marcia giusta, ma è troppo tardi. Cos'è successo quest'anno? Cosa vi è mancato a inizio stagione per fare un campionato diverso? Ma penso come tutte le squadre un po' di infortuni ci hanno penalizzato. Dopo la fine, recuperando due o tre giocatori fondamentali, siamo riusciti ad avere un buon gioco di squadra e i risultati alla fine a un certo periodo si sono visti, sono minuti fuori. Nell'ultima partita con Ronchi, pur perdendo, anche lì avete dimostrato di poter giocare alla pari un po' con tutti. Com'è stata questa partita? Un po' rocambolesca, mi pare, di aver letto alcune note di cronaca. Sì, siamo partiti subito male, in svantaggio, dopo alla fine la squadra è venuta fuori. Abbiamo dato il massimo, solo se alla fine il risultato non è venuto. Non è venuto. In campo invece avete un mister che mischiera secondo dei tatticismi esasperati oppure giocate un po' in tranquillità? Com'è che funziona nel gruppo? No, penso che il mister più o meno ha il suo modulo prestabilito, dopo è bravo a giostrare i giocatori. Quindi fate giocare un po' tutti, diciamo, avete questo tipo di spirito, insomma. Ondino, è difficile per te che sei il presidente, come dire, autofinanziarsi, no? Cioè trovare, diciamo, delle forme di sostentamento per far andare avanti un'associazione come la Ria Cervignano. Sì, è molto difficile perché si va avanti più che tutto con l'autofinanziamento, no? Dopodiché si trova qualche piccolo sponsor locale, qualche aiutino, però è tutto un po'. La difficoltà è anche moltiplicata dalla situazione economica che tutti conoscono, quindi era difficile prima. Adesso è ancora più difficile, comunque un po' con l'autofinanziamento, un po' con, diciamo, aiutini di vari simpatizzanti, diciamo, insomma si riesce a pareggiare il bilancio a fine anno senza fare grandissime cose. Bene, interrompiamo un attimo per presentare un servizio di una gara giocata tra Fluminiano e Rotfer, in prima categoria, era un testa-coda, finisce 0-0. Sentiamo cosa ci hanno detto i protagonisti prima del fischio d'inizio. Siamo con Cristian Nardini, il mister di questo CD a Fluminiano, che tra pochi minuti scenderà in campo con Doltrissano 84. Che gara si aspetta, mister? Mi aspetta una gara difficile, come tutte le gare difficili che abbiamo già trovato. La squadra è una squadra di quelle che mi ha più impressionato nel girone di andata, perché gioca un 4-4-2 molto rapido sulle fasce. Anche noi di solito usiamo una tattica prevalentemente sulle fasce. E quindi oggi penso sarà una bella partita, molto veloce, su ripartenze, di un buon livello anche, credo. Benissimo, dando un'occhiata proprio alla classifica, che precede di pochi minuti l'evento, siete a meno 7 dalla vetta, però avete 5 partite più recupero, quindi 12 punti in palio. Bisogna battere anche la matematica questa sera? Io sono scaramantico, quindi non dico niente, vivo la giornata. Oggi intanto ci dobbiamo fare due punti, due punti importanti, perché se no diamo due punti al Tissano e tiriamo avanti tutte le squadre che ci inseguono. Quindi è fondamentale portare a casa un risultato positivo oggi e dopo proseguire le ultime 5 partite bene, perché ci stiamo allenando bene e puntiamo a far bene quest'anno. Buttazione Nicola, il capitano del Tissano 84 Road Fair, pronto anche lui, lo vediamo già abbigliato, per entrare in campo tra pochi minuti. Capitano, innanzitutto che partita ti aspetti? Sicuramente una partita difficile, loro sono propensi a salire di categoria, quindi sicuramente è una partita difficile. da parte nostra cerchiamo di fare come sempre il nostro meglio e soprattutto di giocare a calcio, che è quello che preme al mister e a tutta la squadra, divertirsi. Senti, siete a più due rispetto alla linea di galleggiamento per quanto riguarda la salvezza, quindi per voi possiamo dire che ogni partita da qua alla fine può essere una finale? Sì esatto, per noi è sempre una finale, ripeto, noi cerchiamo sempre di giocare a calcio, alle volte veniamo un po' penalizzati, però secondo me a lungo andare il calcio rispecchia poi quello che si dà in campo, quindi secondo me ci daremo da fare per riuscire nel nostro compito che la salvezza. Rieccoci in studio, Martina, hai qualche curiosità da chiedere ai nostri ospiti? Per voi come squadra, quali sono gli uomini più importanti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista di mantenere un gruppo? Appunto, gli uomini più importanti sono quelli che riescono comunque a fare gruppo e a coinvolgere un po' tutta la compagnia, perché fondamentalmente per andare avanti devono essere delle compagnie abbastanza omogenee e unite che giocano. Questo diciamo che a noi riesce abbastanza bene, di fatto il gruppo ha sempre tenuto, nonostante il cambio di giocatori, che è sistematico, perché purtroppo per impegni di lavoro, per mille altri motivi, qualcuno viene, qualcuno va, però il noncello duro del gruppo è fatto tutto di giocatori per i quali la partita di calcio e questo è uno dei momenti di questo stare assieme. Dopo si instaura proprio un rapporto di amicizia, non solo a livello amicizio. Quindi la partita è un momento per ritrovarsi. Sì, poi c'è da dire che tramite noi che abbiamo costituito la squadra, sono sviluppate anche delle amicizie, anche dei rapporti professionali, perché ribadisco, i cervinianesi siamo un pochi, però molta gente viene da fuori. E poi si instaurano anche rapporti di amicizia, non so, qualcuno ha fatto il testimone di nozze ad un altro, tutta gente che si è conosciuta tramite il nostro... È una cosa, uno dei più gratificanti dal mio punto di vista, devo dire. Invece, ritornando un po' a quella che è la vostra classifica, vedo che avete segnato parecchi gol, ne avete subiti parecchi. C'è stato, diciamo, qualche problema difensivo, avete avuto mancanze, soprattutto in quel reparto. Diego, tu che hai giocato e ne sei il capitano. Ma diciamo che ultimamente la fase d'attacco si sta rilevando molto... Cioè, riusciamo a far parecchi gol. Solo purtroppo, col fatto che magari stando tanto in attacco, subiamo qualche contropiede di troppo, e quindi sì, anche la difesa è sotto pressione. Facciamo un prossimo, diciamo, un piccolo pronostico. Adesso avete Cormons, Chiarisacco, che è una delle prime, poi avete il Strasoldo, Gradisca e Gorizia, che è anche questa in lotta. Quanti punti pensate di fare in queste ultime cinque partite? Dai, buttiamoci un attimo in quello che potrebbe essere un pronostico. Ma io punterei almeno sei. Il Presidente cosa dice? Il Presidente, che non ci prende mai, dice che non ne facciamo nessuno. Questa è scaramanzia, però. Non ci prendo mai. Bene, erano gli amici del Real Cervignano. Adesso diamo spazio ai nostri inserzionisti e poi ci ritroviamo per la seconda parte. Ben ritrovati in studio. Abbiamo cambiato gli ospiti. Abbiamo Franco Poiana e Marco Bigotti, in rappresentanza praticamente di un'associazione, ma in realtà sono due squadre completamente diverse. Dopo capiremo il perché. Franco, tu diciamo l'anno scorso, anzi da due anni, fai il Friuli in Goal.it o .com, che è una squadra, diciamo, una rappresentativa, chiamiamola così, che gioca nella Coppa Friuli. Come mai la scelta di unire, diciamo, giocatori di spessore e fare una rappresentativa per una manifestazione come la Coppa Friuli? Ma, diciamo, è partita da un'idea di tornei estivi, già partita 10-12 anni fa. Poi, unendo la passione dei soliti personaggi che ci circondano, è venuta l'idea due anni fa di costituire questa associazione, poi facendo anche trasmissioni alla radio, poi, conoscendo in giro questa onda di giocatori che sono sparsi un po' in tutto il Friuli, e ci è venuta questa idea bellissima, invece di fare tornei, anche oltre confine, siamo andati a fare dei tornei, di fare questa, invece, manifestazione primaverile che piace e che ha dato anche i suoi risultati, ma non tanto a livello sportivo, ma a livello aggregativo, perché ho giocatori che purtroppo in me, con abbondanza ce ne sono, e la lista è di 40, devo lasciarne fuori diversi, ci sono richieste, però è importante che sposino anche la mentalità di divertimento, ecco, è quello l'importante di questa cosa qua. E penso che comunque avete avuto un bel successo, perché l'avete vinta due volte consecutivamente, no? Sì. Quindi quest'anno pensate di ripetervi, vi riscriverete come... Ma io devo dire una cosa anche, mi sono appoggiato anche alla società dello Ziraco Calcio, che mi ha ospitato in questi anni al campo, e sai, coi costi, e sono venuti in conto a certe spese, anche Marco Bigotti con le sponsorizzazioni, insomma, ci sono delle cose che bisogna sottolineare, perché se ci sono gente che ci dà una mano, si può fare questo tipo di cose, altrimenti more tutto, e ti dirò che finora è andata bene. Quest'anno cerchiamo un attimino di lasciare un po' libero, no? L'ambiente di Ziraco, non tanto perché ha il suo cammino, no? Ogni anno... Perché hanno due squadre da gestire, una bella organizzazione anche loro. Eh sì, e dopo i campi sono soffocati, il lavoro, perché lì c'è una famiglia, la famiglia Domini, che lavora dal mattino alla sera, bisogna tenere conto anche di questo... E poi c'è la consapevolezza di avere persone in giro per il Friuli, dove ti ospitano, e quella è un fatto, è quella la vera cosa, no? Vai a Rivignano, a Teora, a Pordenone anche, per dirla, e ti ospitano, e questa è la forza di Friuli in Golo. Tu parlavi prima che conduci una trasmissione radiofonica, no? Che va in onda, diciamolo, su latte miele. Qual è la difficoltà di organizzare una scaletta, perché la trasmissione è giornaliera, quindi comunque devi sempre avere del materiale nuovo. Ah, la scaletta... Sai benissimo, Paolo, tu lo sei anche tu da tanti anni nell'onda, diciamo, no? Parti con un'idea alle 8 di sera, arriva alle 11, che stravolgi tutto, e sai benissimo i messaggi che ora ti arrivano, anche con i tuoi ospiti, perché sappiamo la trasmissione della radio coinvolge tutto il calcio regionale, non ha bandiere, e sai benissimo anche la Lega Calcio ospita all'interno del nostro programma due interviste a settimana e devo dire che è stravolta, perché parti con un'idea e poi c'è un'altra inevitabile, c'è l'allenatore che salta, poi c'è il risultato dell'ultimo minuto, perché il forte di questa trasmissione è che diamo i risultati anche della Lega Calcio al mattino seguente, insomma... Che sì, beh, un'informazione a 360 gradi. Certamente, poi abbiamo anche il sito internet che dà, diciamo... Ci si, altre notizie, per cui c'è, diciamo... Che sposa il tutto, ecco. Quindi la tua popolarità a questo punto ti aiuta un po' a reclutare i giocatori, perché sei un nome conosciuto, diciamo, e quindi hai più facilità, probabilmente, a fare questo tipo di reclutamento. Marco, parliamo dello Ziracco, invece, che è una delle squadre, diciamo, che partecipa nell'eccellenza del campionato di Friuli Collinari Calcio 11. Dopo la delusione che avete avuto, se poi di delusione si può parlare, a livello nazionale, mi pare che vi siete ripresi, no? Cos'era successo, diciamo, all'inizio? Cioè, avete, diciamo, assorbito in maniera negativa una sconfitta che poi è un secondo posto, tra virgolette, a livello nazionale? No, indubbiamente per affrontare la fase nazionale bisogna cominciare la stagione prima, perché un minimo di preparazione, nonostante si abbia appena smesso di giocare, è fondamentale. Quindi la delusione ha inciso qualcosina, però effettivamente abbiamo dovuto ritrovarci, ritrovare un momentino anche la forma fisica e nell'arco di poche partite, comunque, la questione si è risolta. Bene, interrompiamo un attimo, parliamo di alimentazione, passiamo la parola alla dottoressa che ci ha fornito la sua collaborazione, grazie al Baisalus di Latisana. Che tipo di alimentazione consiglia in vista di un impegno sportivo come può essere una partita di calcio e di cosa necessita il fisico di uno sportivo amatoriale dopo una competizione? Allora, prima di una competizione sportiva come una partita di calcio che ha durato all'incirca di un'ora e mezza, è opportuno mangiare una discreta quantità di carboidrati, che devono essere soprattutto carboidrati complessi, quindi va benissimo una porzione di pasta, del pane o del riso, accompagnati a una piccola quota di proteine. Le proteine devono essere magre e non in grossa quantità, perché hanno lo solo scopo di mantenere gli zuccheri costanti nel sangue. Quindi una porzione proteica può essere per esempio del petto di pollo, del grana, della bresaola. Un accorgimento utile che molto spesso non viene fatto è quello di non andare ad abbinare nello stesso pasto diversi tipi di proteine, quindi non abbinare per esempio il prosciutto crudo, il formaggio, perché questo allunga i tempi di digestione, quindi è sufficiente un bel piatto di pasta e una piccola quota di carboidrati. Prima di una competizione sportiva non sono necessarie le fibre, e quindi la verdura e la frutta non sono propriamente indispensabili. Mentre possono essere molto utili subito dopo la competizione sportiva per ripristinare gli zuccheri liquidi. Quindi dopo la competizione frutta fresca, anche lì dei carboidrati, in questo caso vanno bene gli zuccheri semplici, come per esempio una crostata, una fetta di torta, un gelato anche subito dopo la competizione, per ripristinare gli zuccheri persi. La cena, quindi dopo alcune ore, dopo la competizione, è opportuno dare spazio alle proteine per il ripristino muscolare, quindi la carne, il pesce e ancora dei carboidrati, preferibilmente poco conditi, quindi un piatto di pasta senza troppi grassi, magari senza formaggi. Marco, dicono che da poco sei tornato dal Brasile. Casualmente c'è un brasiliano che gioca nelle file dello Ziraco e che da qualche partita sta portando punti. È una tua scoperta o è un ragazzo, diciamo così, chiaramente la mia vuole essere una battuta, naturalmente? Se no, poi ria. No, indubbiamente Caviano è un ragazzo che abbiamo trovato qui, è un ragazzo simpaticissimo, molto bravo, ha faticato un attimino all'inizio a ambientarsi, ma adesso si è sbloccato e questo ci fa molto piacere. Voi siete da tanti anni, diciamo, ai massimi livelli del friuli colinare, siete sempre in lotta per vincere l'eccellenza, quindi avete sempre una struttura organizzativa molto forte. Qual è, secondo te, la ricetta di questo successo? Beh, è una ricetta molto semplice, essenzialmente il gruppo. Noi abbiamo una società che si fonda su un gruppo di amici, su un gruppo di persone che sta assieme anche oltre il calcio e quindi è molto semplice trovare intese, accordi. Per cui il risultato sportivo, sì, è importante, perché nessuno va in campo per perdere, però non è fondamentale per riuscire a tenere vicino il gruppo. Il gruppo sta vicino da solo. Martina, vuoi fare qualche domanda ai nostri ospiti? Sì, Ziracco comunque, tra l'altro anche vicino al mio paese, è una bella realtà. Anche negli Over 40 avete una signora squadra. Da subito avete dimostrato di avere buone caratteristiche tecniche. Come valuti questa prima parte di stagione e quali sono le mete che vi siete prefissati? Il segreto è non prefissarsi le mete. Indubbiamente gli Over 40 a Ziracco hanno due anni di vita, questo è il terzo anno. Primo anno abbiamo trovato un attimino dei valori diversi rispetto all'eccellenza, nel senso che gli Over hanno altri ritmi, si può dire che se noi a Ziracco abbiamo il terzo tempo hanno anche il quarto tempo, quindi ci siamo un po' ambientati. L'anno scorso siamo riusciti a vincere il campionato, quest'anno ci riproviamo, però il segreto è sempre quello, andare in campo per divertirsi, andare in campo per vincere, e chiaramente se si può e se no pazienza. Franco, tu segui i dilettanti, anche la Lega Calcio Friuli Colinare e tutte queste realtà. Pensi che ci possa essere una collaborazione tra FGC e magari enti di promozione sportiva per trovare qualcosa di comune e migliorare il calcio regionale? Secondo me si dovrebbe venire a trovare un comune accordo perché a un certo punto, anche nella trasmissione che tratto io, il calcio è il pallone unico per tutti e queste divisioni per me... Si cambia un po' la filosofia, però ad esempio dal punto di vista disciplinare forse si potrebbe trovare... che non vedo giusto magari uno squalificato in FGC o viceversa. Parliamo di squalifiche per anni, non squalifiche di due giornate. Sì, squalifiche, certamente. Come succede, la violenza bisogna un attimino, se sono anch'io d'accordo su questo tipo di squalifica, se è squalificato in un contesto, sicuramente trovando un accordo con altre federazioni si potrebbe venire a capo di questa cosa qua. Marco, un'ultima domanda. Ziracco, in eccellenza, sta vivendo un bel momento, a parte mi pare di ieri sera che avete perso la partita di recupero, siete comunque secondi e dovete giocare contro il termokei ancora, se non ricordo male, l'ultima giornata. L'obiettivo qual è? Vincere quest'anno o tentare di vincere l'eccellenza per poi riprovare a fare i campionati nazionali? L'obiettivo è sempre vincere, l'importante è non averlo come meta da raggiungere ad ogni costo. Chiaro che anche noi quest'anno abbiamo il dovere di riprovare, perché abbiamo il dovere di riprovare a vincere i nazionali, visto che, come hai ricordato, ci sono sfuggiti per un soffio in ben due occasioni, quindi noi faremo di tutto, il massimo, per poterlo fare. La partita col termokei è l'ultima e speriamo di non dover arrivare a uno scontro fratricino. Bene, era Marco Bigotti e Franco Poiana, noi prima di tutto ringraziamo la Martina per la sua collaborazione e vi diamo appuntamento la prossima settimana. Rimanete sintonizzati sui canali di Friuli Venezia Sport e Joule Channel.